L'Associazione Idee, Libertà, Facoltà di Pensiero è lieta di presentare questa sera, in questa bellissima piazza Celestino V, il primo volume antologico del primo concorso letterario nazionale versi movimento. La serata si svolgerà discutendo, interagendo con le varie relazioni del Presidente della giuria e degli altri componenti della giuria e verranno lette delle opere selezionate in questo volume. Noi abbiamo riscosto un elevato successo perché il tutto non si è concentrato solo ed esclusivamente a livello locale, a livello regionale, ma bensì a livello nazionale. Sono arrivate delle opere addirittura da Venezia, Firenze, Verona, quindi con pochissima pubblicità siamo riusciti ad ottenere un risultato veramente impeccabile, che non ci aspettavamo, però devo dire la verità io in quanto organizzatore sono veramente entusiasta di tutto questo. C'è stata anche una massiccia partecipazione di poeti, scrittori molisani, in particolar modo ragazzi. E questa è la cosa nuova che c'è stata proprio una massiccia partecipazione di giovani, ragazzi che si sono cimentati in questa arte che da molti viene considerata ormai perduta, ma che in realtà riaffiora ogni qualvolta vi sono questo tipo di manifestazione.